buongiorno e bentornati qui in autosmile oggi siamo nel vero fuoristrada estremo infatti vi presentiamo questo nissan navara l' np 300 allestimento e in connecta e adesso andremo a presentarvi quanto è full optional è un quattro ruote motrici cambio manuale un double cab perciò quattro porte per chi non ci credesse ecco a voi le quattro porte cilindrata 2003 il DCI turbodiesel da 190 cavalli 140 kilowatt significa con 26.994 chilometri per esattezza guardate come è tenuto adesso ve lo faremo vedere ancora meglio notate dietro i faretti supplementari della hella che è un accessorio extra e sono attaccati a questo magnifico roll bar veramente bello pedane laterali cerchi in lega nissan diamantati da 18 pollici fari fendilebbia questo mezzo importante veramente ripeto 26.994 chilometri vedete la copertura del bagagliaio l'anno è del 2016 perciò gennaio 2016 come immatricolazione retrocamera posteriore per dei parcheggi al meglio che è questa qua e adesso andiamo aprire come potete vedere ha anche la vasca baule cerchiamo di trasmettervi veramente al massimo tutte le emozioni che danno i nostri mezzi usati anche roll bar con i faretti supplementari al suo perché come si dice il modello n p 300 del nissan navara è in connecta questo allestimento e ovviamente è coperto dalla garanzia di 12 mesi un anno che noi riusciamo a estendere fino a quattro anni avete capito bene quattro anni di garanzia ovviamente per avere quattro anni di garanzia contattatci così vi sapremo dire come ottenerli adesso andiamo all'interno vedete anche ovviamente i vetri scuoli posteriori l'interno mi piace molto molto perché in questo velluto 5 posti 5 appoggiatesta tanto spazio per le gambe per i passeggeri posteriori questo è il pannello porta anteriore passeggero guardate com'è tenuto bracciolo anteriore cambio manuale dotato del sistema keyless perciò basta schiacciare questo tastino si apre si chiude automaticamente il veicolo vetri elettrici anteriori e posteriori specchietti che si chiudono elettricamente basta schiacciare questo tasto e poi regolabili sempre elettricamente guardate com'è tenuto il sedile lato guida in fondo con poco più di 26 mila chilometri non può essere altrimenti come sempre nei nostri video cerchiamo sempre di trasmettervi l'emozione che ci danno le nostre vetture usate che abbiamo in disponibilità speriamo con le foto e con i video di farvi capire la qualità e le condizioni di come è tenuto questo veicolo questo è il tasto dell'esp apertura rifornimento controllo ovviamente tri preset adesso andiamo a girare il quadro vedete 26.993 chilometri col tastino ovviamente si gira il quadro ci dice di schiacciare la frizione per accendere ma adesso non accenderemo comandi della radio del computer di bordo comandi del cruise control e limitatore di velocità viva voce bluetooth ovviamente climatizzatore automatico bizona sinistra e destra come vedete separato navigatore satellitare poi ovviamente basta mettere il veicolo in retromarcia e avete la camera 360 gradi come potete vedere anche schiacciando il tastino e questa qui camera 360 gradi poi questi qui il selettore per i due ruote motrici quattro ruote motrici le ridotte blocco del differenziale posteriore l'ausilio in discesa che il nissan descent hill praticamente lo chiamano loro e poi per chiudere le portiere ovviamente usb è presa 12 volt cambia un bel cambio da 6 marce beh vi posso dire che stare qui in alto in questa bellissima plancia comando molto bello specchietto interno fotocromatico perciò si oscura automaticamente a seconda della luce che vi viene proiettata dalle auto che sopraggiungono posteriormente da dietro ovviamente le maniglie per salire più comodamente un particolare il materiale del cielo appunto guardate anche bellissimo questo il materiale con cui ho usato questo questa aletta parasole ovviamente sono compresi tutti i manuali uso e manutenzione perché la vettura è ovviamente certificata luci ad attivazione automatica come potete vedere si attivano e disattivano automaticamente a seconda della intensità della luce molto bello devo dire anche il volante che pur essendo un pick up un mezzo fuoristrada è bello piccolino in pelle il termine più corretto è bello molto bello e alzando l'enorme cofano vedete questo gioiello giapponese questo bellissimo 2003 190 cavalli con cambio manuale 140 kilowatt significano 190 cavalli essendo omologato autocarro c'è anche un bollo molto molto basso è impolverato questo motore e basta non fartelo scappare perché questo è un'ottima occasione secondo noi riassumendo ricordatevi sempre di contattarci prima di venire a visionare o provare questo nissan navara per così sarete certi che sia ancora disponibile qui nella nostra sede di secunyago in provincia di lodi comunque nissan navara np 300 è un 2003 turbodiesel cambio manuale quattro ruote motrici allestimento è in connecta del 2016 con 26.994 chilometri vi aspetta qui da noi in autosmile grazie 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 grazie